È stato firmato nella sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze un accordo per il reinserimento lavorativo dei detenuti nelle carceri toscane. L'accordo coinvolge la Regione, l'Agenzia Regionale per l'Impiego, Arti e il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria e riguarda per ora in via sperimentale 200 detenuti nell'area fiorentina. Con questo protocollo andiamo ad allargare un protocollo che avevamo già fatto con i CIPIA per andare ad individuare, validare e certificare le competenze dei detenuti. L'accordo siglato in Regione prevede la certificazione da parte dell'Agenzia Regionale Arti delle competenze acquisite dai detenuti sia prima che durante la reclusione in diversi ambiti come la cucina o l'amministrazione. Il processo di certificazione delle competenze richiede delle tempistiche non banali. Non si tratta di semplicemente compilare moduli di tipo burocratico e amministrativo ma di ricostruire il proprio percorso personale e quindi appunto richiede comunque tempo. L'obiettivo è rendere le competenze certificate spendibili nel mondo del lavoro e, dopo la sperimentazione, di estendere l'intesa all'intero sistema carcerario toscano. Il lavoro effettuato in carcere è un lavoro utile, utile alla persona detenuta che potrà spenderlo ovviamente una volta ritornato in libertà. Questo quindi sicuramente è da forza ed appeso al tempo trascorso in carcere, all'utilità del tempo trascorso in carcere.